Continuano le celebrazioni rossiniane a Vallo della Lucania, un evento ricco di appuntamenti promosso dal Conservatorio Goitre di Vallo della Lucania e da una fattiva sinergia tra Fondazione Grande Lucania Onlus, Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, Comune di Vallo della Lucania, Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno. Dopo il successo della messa in scena della Cenerento, altri spettacoli sono previsti per celebrare il centocinquantesimo anniversario della morte del grande e poliedrico compositore italiano. L'istituto musicale offrirà al territorio vallese, presso il teatro Leo de Berardinis, l'opera lirica frutto del genio di Rossini, che è anche una delle più conosciute al mondo, ossia il barbiere di Siviglia. Sono aperte le prevendite dei biglietti alla sede del Conservatorio Goitre di Vallo ogni giorno a partire dalle 16 sin alle 21. A questo imperdibile appuntamento seguiranno il viaggio a Reine il 24 luglio presso l'Anfiteatro Parco Stella del Mattino di Vallo della Lucania, il Rossini Day il 28 settembre, sempre nella stessa location del parco. Ultimo appuntamento delle celebrazioni sarà quello del 19 ottobre presso il teatro Leo de Berardinis con la Gazzetta.